San Benvenuto Nacque ad Ancona nel XIII secolo, entrato nell'ordine francescano, studiò diritto a Bologna. Nominato cappellano pontificio, il 1 agosto 1263 divenne amministratore della diocesi di Osimo e l'anno successivo vescovo. Nel 1267 fu incaricato da Papa Clemente IV di assumere il governo civile della marca di Ancona. Morì il 22 marzo 1282 e fu sepolto nella chiesa cattedrale di Osimo, in un mausoleo voluto dal clero e dal popolo. Gli statuti di Osimo testimoniano il culto dei fedeli già dal 1308. Sulla sua tomba avvennero grazie e miracoli. È patrono della città di Osimo, anche se non è mai stato canonizzato ufficialmente dalla chiesa. Grazie a tutti.